Questo meccanismo che è stato questo accordo tra una parte, una parte del padronato e il sindacato che è stato approvato però dal Consiglio federale, è stato fatto proprio in pratica dal Consiglio federale non discrimina le giovani generazioni, cioè diciamo quelli che oggi hanno 25-30 anni rispetto a quelli più anziani? Probabilmente sì, inevitabile anche perché purtroppo noi baby boomer andiamo in pensione quindi adesso tutti questi correttivi per far sì che il bilanciamento finanziario sia garantito sia del primo che del secondo pilastro evidentemente si ripercuoteranno sulle nuove generazioni quello è evidente, se da una parte miglioriamo un po' per le donne e anche il fatto che i salari sono anche piuttosto bassi rispetto a 30 anni fa, anche questo si ripercuote molto molto pesantemente sulle nuove generazioni quindi il vero tema che dobbiamo magari non solo discutere del primo e del secondo pilastro dobbiamo discutere più in generale da una parte di che tipo di fiscalità vogliamo e dall'altra parte anche su che tipo di investimenti devono fare queste casse pensioni E al suo giudizio che tipo di investimenti? Ma ad esempio vediamo che ultimamente si buttano molto di più sull'immobiliare proprio per il fatto che i capitali adesso non rendono Addirittura se li depositano per la banca nazionale Addirittura ci sono interessi negativi e quindi in questo caso succede che se non viene fatto un investimento accorto in ambito immobiliare nel senso tenendo conto anche dei bisogni sociali, dei bisogni del territorio va a finire che abbiamo un territorio deturpato che non possiamo più recuperarlo come era prima e non abbiamo una vera risposta perché non abbiamo alloggi accessibili, abbiamo edifici vuoti Magari una bolla immobiliare Ecco, e quindi probabilmente anche questo tipo di riflessioni vanno portate nel senso di incanalare gli investimenti magari come fanno in Svizzera tedesca con dei diritti di superficie sulle proprietà pubbliche per cooperative o per enti di pubblica utilità per far sì che quello che viene costruito e viene fatto come investimento ha poi ancora un ritorno sociale non solo in termini di previdenza ma anche in termini di messa a disposizione di alloggi accessibili ma anche in termini di messa a disposizione di alloggi accessibili Grazie a tutti!